La villa fu un cantiere per venti anni, durante i quali Adriano esercitò personalmente l'arte che riteneva fosse la prima, quella dell'architetto. Adriano adottò la lingua e la cultura degli Ateniesi. Fu musicista, pittore, scultore, medico, filosofo. Considerando dalle reliquie che ancor si veggono la divinità di quegli animi antichi, non siamo fuori di ragione credere che molte cose di quelle che a noi paiono impossibili per loro erano facilissime. Onde essendo io stato assai studioso di queste tali antiquitati e avendo posto non piccola cura in cercarle minutamente e in misurarle con diligenza.